Gina Sarra, madrina dello zafferano dell'Aquila, perde la sua madrina. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Sant'Antonio di Civitaretenga, domenica 30 dicembre, alle ore 14.30. Una vita, la sua, dedicata alla produzione e diffusione del nostro zafferano, un segno indelebile della comunità di Civitaretenga e di tutto l'altopiano di Navelli. Con lei se ne va un pezzo di storia, intrecciata a quella dell'oro rosso dell'Aquila, vissuta prima a fianco del fratello, il compianto Silvio Salvatore Sarra, fondatore nel 1971 della storica cooperativa altopiano di Navelli, e poi tenendo alta la tradizione e portando avanti per altri dieci anni i suoi ideali, mantenendo una porta sempre aperta per amici, turisti, clienti e semplici curiosi che da tutto il mondo arrivano a Navelli ed intorni a scoprire il nostro zafferano, seminando una speranza che le nostre comunità dovranno coltivare nel futuro, assieme al nostro zafferano. La redazione di Telesiro e l'Aquila si stringe alla famiglia Sarra. Grazie a tutti!